Io sono contentissimo, prima per lo scenario veramente stupendo, poi per la cornice di pubblico, c'erano persone di ogni fascia di età e di tutte le classi sociali, il mondo politico, imprenditoriale, i sindaci, il mondo delle autonomie, il mondo della pubblica amministrazione, gli enti autarchici, i vari settori produttivi. Sono contento perché penso che quest'anno forse abbiamo avuto più partecipazione, poi i ragazzi, la scuola, il mondo sportivo, quindi forse più completa come manifestazione, anche perché forse il luogo era più propizio, più adeguato. Sono contento perché abbiamo ricordato, come dicevo nel mio intervento, i corpi civili e militari impegnati all'estero, nelle missioni, impegnati nell'emergenza in Italia, impegnati nella difesa delle istituzioni democratiche, nell'assicurare la pacifica con il vivente sociale, nel contrasto alla criminalità organizzata. E celebriamo, come dice il Presidente della Repubblica, i valori della libertà, della democrazia, della partecipazione, della solidarietà, che costituiscono il succo, il fondamento della coesione sociale, senza la quale una società non può vivere e prosperare. Tutti noi dobbiamo essere un po' pretoriani, miliziani di questa religione civile, perché altrimenti la società passisce come un fiore cui fai mancare l'acqua e il concime. Quindi penso che oggi è stata una bella manifestazione di popolo, sicuramente coinvolgente. Sono molto soddisfatto perché quando vedo tutti uniti, tutti i settori della società pubblica e privata, c'è questa voglia nuova, rinnovata, di stare insieme, si riscoprono pure energie rinnovate per ripartire, per pensare a questa splendida terra, ai suoi grandi problemi e alla possibilità tutti insieme, in un contesto di gioco di squadra, di poterli risolvere o perlomeno avviare la soluzione per evitare che i suoi figli migliori possano poi essere costretti ad abbandonare per mancanza di lavoro. Il dramma di lavoro, il Presidente della Puglia parla di crisi angosciante a livello nazionale, soprattutto parlando dei giovani. Quindi questo richiama tutti a una responsabilità più piena, più forte. Ecco, dobbiamo tutti fare di più perché ciascuno di noi può fare di più e dare di più a questo splendido paese che è l'Italia. Noi troppo spesso siamo italiani, siamo un po' catastrofisti, fascisti. Non apprezziamo quello che magari il buon Dio per chi crede o matronatura per chi non crede ha dato. Ecco, abbiamo oltre il 70% del patrimonio mondiale, magari poi non lo curiamo a dovere. Abbiamo tante eccellenze storiche nella pittura, nella scultura, nella letteratura che sono il vanto e noi dobbiamo essere orgogliosi di tutto questo. Questo orgoglio ci deve spingere a fare di più, a vivere il presente, sapendo impostare sapientemente, saggiamente il futuro dell'Italia. Adesso lo dico poi soprattutto per la Calabria perché vive sicuramente una crisi ancora più forte visti gli alti tassi di disoccupazione, i bassi tassi di occupazione, i tassi di povertà, il PIL pro capita che è la metà rispetto a uno del nord. Quindi ecco, questi dati ci devono convincere a stare insieme, a costruire delle politiche che siano adeguate al contesto territoriale. Quindi uno sviluppo eco-compatibile, eco-sostenibile. Ne dobbiamo parlare pure oggi che il 2 giugno può sembrare strano perché proprio nel 2 giugno possiamo trovare appunto forza, energia, quella benzina, quel propellente per uno scatto d'orgoglio, per un sostituto di dignità. Grazie! Grazie! Grazie!